Perché votare per Well Community per coerenza e credibilità? Credibilità perché la nostra lista è composta da persone che fanno parte di tutte le componenti della comunità. Abbiamo sfarditi, eschenazziti, italiani, persiani, tripolini, religiosi, non religiosi. Questa nei fatti è la migliore prova e garanzia che noi opereremo per il bene di tutta la comunità e nel rispetto di tutti. Coerenza perché in tutti i mandati in cui siamo stati presenti come Well Community siamo stati sempre coerenti con quello che abbiamo detto e fatto le cose. Sono molti esempi dal nostro appoggio a Israele, all'antisemitismo, alla scuola e così via. Quindi mettete le 13 preferenze tutte sulla lista di Well Community. Grazie. Grazie.